Un condominio di lusso andrà a sostituire un fabbricato da anni in disuso situato nel piazzai Lamedola al Lido di Fano, che da qualche giorno ha cambiato volto con l'abbattimento del vecchio edificio. I lavori non sono passati inosservati e permetteranno di dare un nuovo aspetto all'ingresso del lungomare Simonetti. Secondo il progetto redatto dall'architetto Giuseppe Frausini, questa sarà la nuova costruzione. Lo stile del complesso edilizio sarà moderno, comprenderà nove appartamenti e per realizzare la struttura in base al piano casa verranno ripristinati i volumi preesistenti, questo per evitare ad esempio rifacimento di strade e di nuovi servizi. Lo stabile era lasciato da anni in stato di degrado e di completo abbandono. Molti di voi ricorderanno che fino a tanti anni fa la struttura ha ospitato prima un bar, poi negozi di abbigliamento ma anche di articoli da mare. Proprio qua c'era una panchina in legno mentre in questo piazzale c'era una fermata degli autobus che per quanto riguarda la linea urbana oggi non transitano più. Le aiuole pubbliche antistantilaria invece potrebbero rovinarsi a causa dei lavori che dureranno circa un anno e mezzo ma verranno ripristinate a spese del proprietario. Questo però non è l'unico progetto in cantiere a Lido di Fano. Pochi metri più avanti infatti è atteso un nuovo albergo nell'area dell'ex hotel Vittoria per il quale l'amministrazione comunale ha concluso un lungo iter burocratico. La nuova costruzione che in alcuni punti raggiungerà anche 18 metri di altezza avrà una destinazione sia residenziale che commerciale e turistica. Comprenderà quindi appartamenti, un nuovo albergo con una quarantina di camere su 2.500 metri quadrati ma anche diversi spazi commerciali. Ora spetta solo ai privati scegliere di investire o meno per realizzare il progetto previsto dalla variante urbanistica.